Questo video è sponsorizzato da Eneba, sito di che attraverso il quale potrete acquistare i videogiochi a prezzi particolarmente convenienti, e con il codice freccia blu avrete un ulteriore 3% di sconto. A quanto pare il futuro si prepara a non darci di prodotti, quindi potrebbe essere una buona idea risparmiare qualche soldo. L'attesa è stata estenuante, ma finalmente l'Xbox Showcase è apparso in tutta la sua maestosità, e dopo giorni passati a vedere eventi preceduti da grandi personaggi del settore che facevano di tutto per abbassare l'asticella dell'hype, ritrovarci con un evento bello ricco e a cui hanno fatto seguito delle promesse piuttosto importanti è stato sicuramente galvanizzante. Tutto è andato nel migliore dei modi? Non esattamente, ma di questo parleremo dopo. Io intanto ho qui la mia bella lista, quindi vediamo insieme tutto ciò che Microsoft ci ha offerto nel corso della sua conferenza. Siete pronti? E allora partiamo. L'evento inizia subito alla grande, con un gameplay bello ricco di Redfall, il che mi ha abbastanza sorpreso. Non mi aspettavo la sua presenza in conferenza, quantomeno non me l'aspettavo così massiccia. Un lungo video di gioco che ha mostrato la struttura ludica, che così a naso sembra mescolare elementi propri di un Let's 4 Dead con un'avventura narrativa in pieno stile Arkane Studios. Tra l'altro è stato già confermato che il titolo sarà giocabile interamente in single player, il che mi ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo. Detto questo, il gioco sembra molto solido e gli Arkane restano una garanzia. C'è sicuramente qualche elemento ancora migliorabile e alcuni dettagli sono ancora avvolti nell'oscurità, ma già da ora mi posso dire estremamente fiducioso. Secondo annuncio, seconda bombetta. Silksong, e io ve lo giuro, di tutti gli eventi che ci sono stati, l'Xbox Showcase era quello in cui meno mi sarei aspettato di vederlo. E invece eccolo qui, bello come il sole, un titolo che appare solidissimo, bellissimo, divertentissimo e con un combat system estremamente dinamico, pieno zeppo di contenuti. L'attesa per questo gioco è spasmodica, davvero non vedo l'ora, ed è anche per questo che mi si è un po' spezzato il cuore nel constatare l'assenza di una data d'uscita dopo così tanto tempo dalla prima presentazione. Al terzo annuncio stavo già stappando lo spumante, perché se per la terza volta mi tiri fuori un'altra bombetta, beh, direi che non ci poteva essere modo migliore per riniziare questo showcase. Igon Life è un prodotto che non conoscevo ma che già dal primo sguardo mi ha conquistato. Il titolo sembra avere carisma da vendere, e nella sua follia, con anche queste armi che letteralmente ti parlano mentre ammazzi alieni, sento che mi regalerà un'esperienza indimenticabile. Il tocco dal creatore di Rick e Morti si sente tutto, e oltre allo splendido stile spicca anche un gameplay particolarmente ricco e un valore produttivo che grida tripla da ogni pixel. Ciliegina sulla torta, l'uscita fissata a ottobre 2022. A questo punto abbiamo avuto un piccolo momento chiacchiere con due elementi in particolare che meritano attenzione, ovvero che tutti i giochi mostrati usciranno ente i prossimi 12 mesi, permettetemi un poco di scetticismo, e che il Game Pass sarà predominante, ma di quello voglio parlarvi nelle battute finali di questo recap, quindi andiamo avanti. Dopo la conferma di titoli Riot Games in arrivo sul Game Pass PC e mobile, con moltissimi elementi già sbloccati, tipo tutti gli eroi utilizzabili fin da subito, notizia di cui a me non frega nulla ma che oggettivamente è una bomba per un'enorme fetta di mercato, Appletta il Requiem è tornata a mostrarsi mettendo in mostra un progresso tecnologico evidente rispetto al predecessore. Il gioco sembra molto più vasto, bello e variegato sotto il profilo ludico. Se il primo capitolo era un lungo corridoio dove il gioco stesso ti teneva per mano dicendoti cosa fare e dove andare, questo secondo episodio appare ben più interessante proprio in termini di gameplay. Ovviamente parliamo di un'avventura narrativa lineare, ma al contempo le molte situazioni viste, anche solo in termini di combat system, mi fanno ben sperare. A partire da questo momento fase un po' di transizione per me, poiché a seguire abbiamo avuto quei 6 o 7 annunci che per gusti personali non mi hanno particolarmente intrigato. Il ritorno di Forza Motorsport è oggettivamente una bomba e il gioco sembra magnifico. Non sono un fan dei titoli automobilistici simulativi, ma ho visto utenti perdere litri di lava innanzi a questo annuncio, e ciò è assolutamente giustificato. Il realismo grafico è semplicemente incredibile, con un ray tracing sparato a mille sogni in superficie, l'attenzione alla fisica è stata maniacale, il sistema di danno dei veicoli appare estremamente certosino, c'è un ciclo giorno-notte che porta a cambiamenti della temperatura sull'asfalto con conseguente cambio di esperienza a ped alla mano. Si è parlato di importanti implementazioni da lungo tempo richieste dai fan, e in generale la produzione appare come un nuovo gradino nell'ambito dei simulativi automobilistici. Come detto, a me non interessa, ma l'hype scatenatosi sul web è più che comprensibile. Dopo l'annuncio del quarantesimo anniversario di Flat Simulator con tutta una serie di nuovi velivoli, seguito dalla presentazione del Pelican Dialo introdotto in-game, anche Overwatch 2 ha fatto la sua comparsa, rivelando il suo essere un prodotto free-to-play, mostrando un nuovo personaggio giocabile e annunciando una beta che partirà dal 4 ottobre. ARA, History Untold, è uno strategico che invece per ora non mi ha detto nulla, probabilmente lo salterò completamente. Bethesda ritorna poi con due espansioni per The Elder Scrolls Online e Fallout 76, anche qui l'interesse è praticamente zero, ma è lodevole come i due giochi inizialmente dati per morti si erano stati supportati fino ad oggi, in parte riuscendo anche a tornare in auge agli occhi del pubblico. Tra l'altro, ammetto che la curiosità di riprovare Fallout 76 un po' c'è, io ebbi modo di giocarla al day one e mi fece schifo, ma da quel giorno di acqua sottiponti ne è passata parecchio e l'esperienza sembra essere notevolmente migliorata, quindi chi lo sa, magari potrei anche divertirmici sopra, un giorno o l'altro proverò a darvi un'altra possibilità. Grande DLC per Forza Horizon 5, tutto dedicato agli Hot Wheels, e ragazzi sembra una figata megagalattica, un'espansione che unisce lo stile di Forza Horizon con la follia delle piste Hot Wheels, se da un lato non sono particolarmente interessato agli automobilistici simulativi, amo invece quelli arcade, in questo caso ho sbavato anche io. Trailer in CGI di Arc 2 con Vin Diesel che cavalca un dinosauro. Poi, dopo una lunghissima attesa, finalmente cazzo di scorn e mamma mia cosa non sembra essere! Lo stile, il mood, l'hard design che ogni inquadratura riesce a evocare da sborrata nelle mutande, alcuni temono l'effetto agoni, grande direzione artistica, ma gioco di merda. Io però sono più fiducioso, il gioco mi pare molto solido e anche abbastanza vario, e non vedo l'ora di poterlo giocare questo 21 ottobre. Flintlock The Sea of Dawn è una sorta di action adventure con elementi da soulslike che appare ancora un po' grezzo, ma rivelatosi al contempo capace di incuriosirmi non poco. Il gioco sembra valido, ma soprattutto divertente, con questo sistema di movimento particolarmente dinamico e sto volpino pelosino ad accompagnarci. Non lo so, nel dubbio lo voglio adesso. Minecraft Legend è uno strano prodotto, uno strategico con elementi action che sicuramente mi ha attirato, ma il cui gameplay mi appare ancora abbastanza confuso, sicuramente mi servirà qualche altro video in game per farmi un'idea più chiara di cos'è il gioco voglia essere. Lightyear Frontier sembra un mezzo survival, un mezzo co-op, un mezzo costruisci la tua casa raccogliendo risorse con un mega robot attraverso il quale innaffiare i fiorellini. Passo. Goonfire Reborn è invece un co-op a quattro giocatori roguelite spiccatamente cartoon molto frenetico, molto cacciaroni. Ehm, il prossimo. The Last Case of Benedict Fox. Bella bombetta, un adventure platform 2D che sprizza parecchio carisma, sembra esserci non poca sostanza dietro al progetto e onestamente questo genere di produzioni sanno sempre fa breccia nel mio cuore. Sicuramente lo terrò d'occhio. Asdask Falls, invece, continua a non colpirmi particolarmente. Diciamo che lo stile visivo non mi fa impazzire, ma di contro la struttura ludica da gioco narrativo a scelte multiple sembra fatta apposta per me, quindi è molto probabile che lo comprerò, ma non lo attenderò con il birillo rizzato. Naraka Blade Point, signori. Titolo che si configura come un butterroi pentiment è un gioco che prima ha attirato la mia curiosità per il suo stile, ma che poi ha conquistato la mia attenzione per il team dietro al progetto, Obsidian Entertainment, che di base potremmo tradurre in una sceneggiatura da dieci lode. Il fatto che impersoneremo i panni di un detective intento a scovare assassini nel pieno del medioevo non ha poi fatto altro che convincermi ancor di più, lo voglio quanto prima, e non dovremo aspettare più molto, novembre 2022. A seguire troviamo un gioco a cui non mi sono mai avvicinato, ma che ho sempre voluto provare, Grounded. Il motivo per cui non mi ci sono mai lanciato si riassume nel suo esser stato pubblicato in Early Access, io onestamente sapevo che giocarlo prima della release finale me lo avrebbe in qualche modo rovinato, quindi ho atteso e alla fine il grande momento è arrivato, a settembre 2022 il gioco uscirà dall'accesso anticipato e io mi ci lancerò di testa, non vedo l'ora. Parlando poi di sorprese è il rerun Shade of Legacy, titolo mai sentito, titolo mai visto, nei fatti uno stealth game dove muoversi con il favore delle ombre, sicuramente non il gioco per cui mi strappo le vesti, ma comunque un prodotto che proverò con gran piacere. Pensavate che le sorprese fossero finite? Beh, vi sbagliavate, perché dal nulla ecco apparire Diablo 4, così, debotto, senza senso. Il lungo gameplay visionato potrei definirlo un toccasana per la mente e per il cuore, non solo perché non mi aspettavo uno stato dei lavori così avanzato, ma anche perché quanto mostrato è stato veramente figo. Il gioco sembra già da ora una droga di quelle potenti, vastissimo e ricchissimo, con diverse feature particolarmente intriganti ad arricchire il tutto e una struttura ludica che già da ora mi fa gridare al miracolo. Onestamente immaginare di vederlo già nel 2023 sarebbe un sogno che diventa realtà. Sea of Thieves Season 7 mi è invece passato via come acqua di rugiada sulle foglie di un albero. Insomma, mi ha stracciato i coglioni vedere Rare così tanto al lavoro sul suo gioco di pirati, ma al contempo così silenziosa su Everywild. Vorrei quante più novità possibili a riguardo e ogni anno resto coscientemente deluso. Non c'è però il tempo di tenere il muso, altro gioco, altro colpo di goduria, Ravenlock mi ha subito stregato con questo suo mood da Alice nel paese delle meraviglie e uno stile che mescola elementi quasi da pixel art con altri più tecnicamente realistici. Peccato solo che per poterlo toccare con mano dovremo aspettare ancora parecchio, il 2023 per essere precisi. Dal lead designer di Limbo Inside, Cocoon, titolo che appare particolarmente ricco sotto il profilo ludico per quanto piuttosto strano ha ancora da inquadrare, ma lo stile mi piace, in sede Limbo li considero piccole perle e la possibilità di ritrovarmi con un altro diamante nascosto è più concreta che mai, sicuramente l'interesse è alto. Di Wulong Fallen Distany invece non sappiamo ancora nulla, abbiamo visto giusto un trailer in CGI che niente ci ha detto del gameplay, ma dietro ci sono i ragazzi del Team Ninja, i due ditte incrociate, per quanto coi Tecmo sappia sempre intimorirmi. Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royale, tutti in arrivo nei lead Xbox, tutti in arrivo sul Game Pass. Questa è una bella bomba, parliamo di tre giochi magnifici facenti parte di una serie splendida. Più giocatori ci si potranno avvicinare, più ne sarò felice. Inoltre personalmente non ho mai toccato con mano Persona 3, quindi questa sarà l'occasione perfetta per vedere un po' cosa mi sono perso i tempi. Colpo di scena in casa Microsoft, Hideo Kojima che lavora a un progetto in collaborazione con Xbox. Purtroppo non si è visto assolutamente nulla, mi sarebbe piaciuto poter avere almeno un nome o un logo, e invece niente, pazienza. Io ho adorato tutti i suoi titoli, quindi anche l'attesa per questo progetto non può che essere alle stelle, si prendesse il suo tempo e mi tirasse fuori l'ennesimo capolavoro. Ultimo annuncio della serata, Starfield, e io ve lo dico ragazzi, per quello che si è visto, per quello che si è detto, bomba incredibile. Onestamente la sensazione avuta è stata simile a quella di uno Skyrim, un prodotto immenso in cui perderci centinaia di ore. Molte cose mi hanno convinto, altre necessitano qualche limatura quella. Bellissimi mondi mostrati, ottimo il comparto tecnico, davvero belle le creature aliene viste finora. La personalizzazione sarà di primaria importanza, non solo per il nostro personaggio, ma anche per le armi, la nave che guideremo e la base che fungerà un po' d'hub del gioco, con una quantità d'opzioni imbarazzantemente elevata. Si è parlato di una narrativa di spessore e di una marea di scelte che cambieranno la storia, si è parlato di viaggi in giro per lo spazio con tanto di combattimenti tra le stelle. Vanno invece ancora migliorati lo shooting, che non mi ha minimamente saltato, e l'intelligenza artificiale, e se nel primo caso posso aspettarmi dei miglioramenti, temo che l'IA ce la dovremo ottenere così. Inoltre, grande dubbio del prodotto, il numero di pianeti esplorabili. Todd Howard ha parlato di ben 100 sistemi solari in cui muoversi liberamente e oltre mille pianeti in cui potremo atterrare, che sono uno sproposito, come cazzo fai a realizzarli tutti a mano? Solo a pensarci mi sembra impossibile. Certo, si parla di macromappe esplorabili per ogni pianeta, non ci muoveremo su tutto il globo, ma ragazzi, createle voi mille passamappe a mano tutti diverse. Temo il rischio della generazione procedurale, temo il rischio di 10 pianeti che si ripresenteranno più e più volte con piccole differenze. Ma questo solo il tempo potrà dircelo. Sta di fatto che il gioco mi ha fatto impazzire, se manterranno le promesse fatte avremo innanzi l'epopea Bethesda per eccellenza. Voglio sperarci, vediamo come va a finire. Fatto sta che così si è chiuso l'Xbox Game Showcase, un evento che personalmente ho davvero apprezzato. Il ritmo è stato perfetto, pochissime chiacchiere, tantissimo gameplay, trailer su trailer senza un attimo di respiro. Ci sono state grandi sorprese, annunci importantissimi, ritorni di rilievo e una valanga di produzioni che già da ora appaiono estremamente solide e anche diverse date per il 2022. 30 presentazioni, 30 giochi di cui 19 hanno saputo rapirmi. Tra l'altro, da quello che è stato detto, abbiamo visto tutti i giochi che dovrebbero uscire nei prossimi 12 mesi, quindi entro giugno 2023. Se fosse vero sarebbe la cuccagna, sicuramente ci spero, ma un po' di dubbi ce li ho, in particolare per giochi come Diablo 4 e Silksong. Vedremo. A tutto quello che vi ho detto fino ad ora, però, bisogna aggiungere un altro dettaglio importantissimo e che ho volutamente lasciato per ultimo. Il Game Pass. Ragazzi, non so che dire, il Game Pass continua ad essere l'abbonamento videoludico della vita e questo evento ne è l'ennesima prova. Di 30 giochi mostrati, solo 3 non avevano la dicitura Game Pass al lancio, ovvero il DLC di Force Horizon, Overwatch 2, che però sarà free to play, e Diablo 4. E su quest'ultimo mi aspetto comunque che arrivi nel Game Pass non appena l'acquisizione di Activision Blizzard sarà completa. Il resto tutto sull'abbonamento. Redfall, Silksong, Starfield, Aplectail Requiem, Forza Motorsport, Igon Life, Scorn, una vera e propria valanga di giochi. Se già prima della conferenza il Game Pass era l'abbonamento dei sogni, ora è l'utopia che diventa realtà. E l'immagine finale, che mostra 50 giochi in arrivo tra il 2022 e il 2023, di cui 43 in arrivo sul Game Pass, racchiude perfettamente il significato del Game Pass stesso. Giochi che però ovviamente non saranno gli unici che nel prossimo anno e mezzo giungeranno sull'abbonamento Microsoft. Considerando che ogni mese ne vengono aggiunti tra i 10 e i 15, possiamo aspettarcene letteralmente centinaia da qui ai prossimi 18 mesi. Mi è dispiaciuta l'assenza di alcuni giochi degli Xbox Game Studios come Avowed o Fable, ma visto che qui si parla di titoli che dovrebbero uscire nei prossimi 12 mesi, la cosa ha senso. Mi ha invece colpito negativamente l'assenza di Hellblade 2. Ero sicuro che sarebbe stato mostrato, ero sicuro sarebbe uscito presto. Invece a quanto pare dovremmo attendere più di un anno prima di poterlo rivedere, il che è sicuramente un brutto colpo. Fatto sta che il Xbox Game Showcase è stato magnifico, una bomba, e sembra delineare un gran bel futuro per tutti gli appassionati Microsoft, se le promesse verranno mantenute e parliamo di un sé bello grosso. Questo comunque era tutto quello che avevo da dirvi, io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio tutti coloro che hanno seguito me, Lucky e Vlad durante la diretta per l'evento Microsoft, e vi saluto, noi ci vediamo alla prossima.